Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi, dopo aver confessato 19 persone per circa un'ora, con un fuori programma molto significativo, Papa Francesco ha salutato i frati e i vescovi umbri. Dopo di loro ha parlato per qualche minuto con l'imam di Perugia, Abdel Quader, che lo ha ringraziato per le sue recenti parole sull'Islam, che non si può identificare con la violenza e il terrorismo, pronunciate sul volo di ritorno da Cracovia. Quindi il Papa ha visitato l'infermeria della Basilica, incontrando i dieci frati ricoverati, e infine è uscito su Sagrato per abbracciare alcuni malati e alcuni dei 3.000 fedeli raccolti dal mattino davanti a Santa Maria degli Angeli. Poi il saluto abbraccio. Vi ringrazio tanto la vostra accoglienza e chiedo al Signore vi benedica. Vi ringrazio per questa voglia di essere vicino e anche, non dimenticatevi, sempre perdonare. Perdonare da cuore, se si può avvicinarsi, io avvicinarsi all'altro. Ma perdonare, perché se noi perdoniamo, il Signore ci perdona e tutti noi abbiamo bisogno di perdono. Eh? Qualcuno non ha bisogno di perdono qui? Alzi la mano. Tutti, no? Grazie. 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 Grazie a tutti